Assalamu alaikum, grazie. Io ho fatto il parlamentare tra il 2013 e il 2018 e prima di essere eletto in Parlamento con il Movimento 5 Stelle credevo che il vizio scuro dei politici non soltanto italiani di tutto il mondo fosse magari alle volte la disonestà, la corruzione. Poi sono stato in quel palazzo 5 anni, ho continuato in un certo senso a frequentare il mondo della politica benché decisi di non ricandidarmi e ho compreso che il vizio scuro che purtroppo infesta molti palazzi istituzionali, senz'altro il Parlamento della Repubblica Italiana è la paura, la paura a prendere posizione, la paura di schierarsi. Credo che questo sia il principale dovere per chi fa politica ma anche per chi fa informazione, per un giornalista, per un intellettuale, ovviamente io non lo so, non sono neanche giornalista perché semplicemente prendo posizione, scrivo e faccio delle battaglie politiche al di fuori delle istituzioni e penso che si possano fare anche al di fuori delle istituzioni, anzi al di fuori delle istituzioni si possano fare con maggiore libertà. Il punto è che oggi in un momento così conformista, un momento in cui ripeto giustamente si ricorda la resistenza ucraina ma ogni qualvolta qualcuno osi ricordare la resistenza palestinese viene associato addirittura al terrorismo, all'antisemitismo, è veramente una roba vergognosa. Io ho anche letto articoli di giornali vergognosi anche rispetto a questo convegno, anche rispetto alla mia presenza a questo convegno, sono veramente delle robe oscene. Io francamente me ne infischio, non mi importa più nulla di quello che scrivo, non ho scelto la posizione, vado avanti dritto e con certi giornali o ci incarto il pesce o ci faccio scolare i falafel, non faccio nient'altro con certi giornali. Il punto è che un tempo in Italia non vi era il conformismo che c'è oggi. Il 31 dicembre del 1983 uno dei Presidenti della Repubblica più amati della storia della Repubblica italiana, Sandro Pertini, disse durante il discorso di fine anno, un discorso rivolto alla nazione, queste parole. Una volta furono gli ebrei a conoscere la diaspora, vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente, dispersi per il mondo, adesso sono invece i palestinesi. Ebbene io affermo ancora una volta che i palestinesi hanno diritto sacrosanto ad una patria e a una terra come l'hanno avuta gli ebrei, gli israeliti. Era il 1983 e a pronunciare questa parola era il Presidente della Repubblica italiana, il capo dello Stato e ancora disse, io sono stato nel Libano e ho visto i cimiteri di Shatila e Sabra, è una cosa che angoscia vedere questi cimiteri, li ho visti anche io, dove sono sepolte le vittime di quel massacro orrendo. Il responsabile di quel massacro è ancora al governo in Israele, è responsabile e al responsabile dovrebbe essere dato il bando dalla società. Immagino, perché Pertini non lo disse esplicitamente, che si riferisse ad Aria Sharon, che all'epoca era Ministro della Difesa del governo israeliano e dopo le polemiche scaturite appunto ai massacri, ai genocidi di Sabra e Shatila, venne sostanzialmente allontanato per qualche mese al governo israeliano, ma la carriera proseguì, tant'è che poi divenne Ministro del Commercio e dell'Industria, Ministro degli Esteri, Ministro delle Costruzioni addirittura, che è una modalità che utilizza la politica israeliana chiaramente per occupare territori che non sono suoi e portare avanti appunto il sistema delle colonie illegali e poi addirittura Premier israeliano. Eppure il capo dello Stato della Repubblica italiana in uno dei paesi più importanti al mondo ebbe il coraggio di fatto di prendere di petto un politico di un altro governo. E ancora, un Presidente del Consiglio, Bettino Craxi e Tati, non ho mai particolarmente apprezzato, però è l'idolo indiscusso della maggior parte di politici o giornalisti che considerano qualsiasi vicinanza di un politico o giornalista italiana alla causa palestinese la vicinanza di qualcuno verso qualcosa che ha a che fare con il terrorismo. Ecco, un Premier che si chiama, che si chiamava Bettino Craxi, il 6 novembre del 1985 intervenendo alla Camera dei Deputati, in occasione tra l'altro di un'escussione relativa alla crisi di Sigonella che ebbe luogo un mese prima, disse prima sostenne che la lotta armata del popolo palestinese, c'era l'OLP, all'epoca era legittima, ma quando vi furono brusii e protesti in aula giunse, sono convinto che lotta armata e terrorismo non risolveranno il problema della causa della questione palestinese e anche io di questo sono straconvinto. Tra l'altro vorrei segnalare che ho ascoltato più in questo convegno la parola pace che negli ultimi 6-7 mesi nel Parlamento della Repubblica Italiana. Pace! E aggiunse Craxi quando venne criticato per aver di fatto sostenuto la legittimità della lotta armata, contestare ad un movimento che voglia liberare il proprio paese da un'occupazione straniera la legittimità del ricorso alle armi significa andare contro la legge della storia. Questo lo disse un Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, ripeto, oggi idolo indiscusso di giornali di centrodestra, di politici di centrodestra o di finta sinistra che considerano banalmente coloro che osano dire in televisione, cosa che faccio io, se si danno armi in Ucraina o sono contrarissimo a inviare armi in Ucraina, armi in Ucraina a questo punto perché non le diamo al popolo palestinese che sta resistendo ad un'occupazione straniera e io sono contrario anche ad armare il popolo palestinese perché credo tuttora in una soluzione non violenta del conflitto, però il punto è che questi giornali o questi politici che hanno o avevano o hanno tuttora come idolo indiscusso Bettino Craxi considerano appunto la mia vicinanza o di altri personaggi pubblici in Italia alla causa palestinese quasi preoccupante o pericolosa. Il male oggi principale però non soltanto dell'Italia e tutto il mondo è conformismo e ipocrisia. Molti di voi hanno giustamente detto che l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità, l'Italia stessa, guardate io lo faccio sempre, io cerco sempre di inchiodare politici italiani oppure personaggi che lavorano nelle istituzioni europee alle loro responsabilità perché ripeto qua a Milano non so se tuttora ma per un lungo periodo ha campeggiato sul palazzo municipale del comune una scritta giustizia e libertà, giustizia per Giulio Reggeni, è un cittadino italiano che è stato assassinato secondo me dai servizi segreti egiziani e quello striscione è firmato Amnesty International, giustamente Amnesty International viene considerata una grande organizzazione, viene considerata come grande organizzazione quando denuncia le violazioni dei diritti umani in Iran, in Russia, però quando casualmente parla di apartheid in Palestina viene anche Amnesty International silenziata, dato che però il male oggi è veramente il conformismo e l'ipocrisia mi preme dire che anche nel mondo arabo vi sono troppi politici che per quieto vivere, per paura di prendere posizione, per paura di perdere il loro carriere o di perdere la loro comfort zone relativa alla carriera politica preferiscono il silenzio rispetto alla questione palestinese, anche nel mondo arabo non soltanto in Europa, non soltanto in Italia, ci sono troppi politici in tutti i paesi, anche nel nord Africa che preferiscono i petrol dollari, fare affari con determinati stati piuttosto che denunciare le violazioni commesse dal governo israeliano a danno del popolo palestinese e credo che sia un dovere in primis vostro, perché siete parte integrante del mondo arabo, sì inchiodare le istituzioni europee o le istituzioni italiane, ci sono tanti cittadini italiani qui, ma anche inchiodare politici del mondo arabo che ripeto preferiscono le verità comode e il silenzio alla tutela e alla lotta in favore dei diritti umani e questo anche va detto perché lo noto io che vi sono dei paesi, tra l'altro la mia compagna è di origine algerina e noto quanto l'Algeria da sempre abbia sostenuto la casa palestinese, grazie al popolo algerino e grazie a molti dei politici algerini e c'è un politico sì che venne assassinato, chiamiamolo politico in certo senso in Italia, si chiamava Enrico Mattei, il quale anche per garantire una maggiore indipendenza energetica al nostro paese sostenne e stringe degli accordi con gli algerino, voleva stringere degli accordi sempre più stringenti con l'Algeria nel periodo della causa indipendentista algerina e ci ha rimesso la pelle, questo per dire a tanti politici italiani, arabi, europei che non hanno il coraggio di rompere il loro silenzio e di prendere posizioni, di schierarsi perché schierarsi è difficile, ti fa perdere amici ma te ne fa pure conquistare tanti di nuovi, io spero di essere diventato vostro amico in questi mesi, mi onorerebbe la vostra amicizia, vorrei dire ai politici di oggi che ci sono stati in passato politici che hanno rischiato molto di più della loro carriera politica nel prendere delle posizioni scomode, molto di più del conto in banca nel prendere posizioni e nello schierarsi, ecco un po' più di coraggio sarebbe doveroso, lo dobbiamo a tutti coloro che lottano per la Palestina libera, che lottano in favore dei diritti umani e che non tollerano più il conformismo appunto del quale siamo circondati. Grazie a tutti, Palestina libera, Palestina orra, grazie.